Prevalgono gli acquisti nella borsa di Milano, al pari delle principali borse europee Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Unipol, che vanta un incisivo incremento del 4,28%. Le peggiori performance si registrano su Saipem, che ottiene meno 2,03% Tra le principali materie prime, segno più per l'oro, che mostra un aumento dello 0,40% Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Italia annunciati prezzi al consumo su base annuale, pari a 0,6% Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,1%. Questo pomeriggio si attende dalla Germania l'annuncio sui prezzi al consumo, e dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM Manifatturiero Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.067 punti